Vittoria sofferta ma pesante, pesantissima per il Foggia che ritrova la testa della classifica battendo una Juve Stabia che dice definitivamente addio ai sogni di promozione diretta. Tutto confermato nel Foggia 4-3-3 per Stroppa con Di Piazza in campo dal primo minuto. La Juve Stabia presenta invece qualche novità che sa tanto di bocciatura. Nel 4-3-3 di Grassadonia non ci sono Marotta, Ripa e Cutolo che si accomodano in panchina in campo Canotè, Paponi e Lisi. Sedicesimo, Guarna lancia a lungo per Di Piazza che scatta, tiro potente respinto da Russo, lo stesso Di Piazza poi ci prova con una girata. E il Foggia a fare la partita. Trentaquattresimo, si fa vedere anche Deli, il suo tiro è deviato. Trentasettesimo, Santa Croce, brutta la sua prestazione, perde un pallone sanguinoso, Vacca serve, Mazzeo dentro per Di Piazza fuori. Al quarantaduesimo il calcio di rigore per il Foggia, intervento inutile forse di Morero su Sarno, l'arbitro non ha dubbi e penalty per i padroni di casa. Dal dischetto Mazzeo è freddissimo, Foggia 1, Juve Stabia 0. Con questo punteggio si va negli spogliatoi. Cambia la gara nella ripresa, la Juve Stabia adesso è decisamente più viva, il Foggia probabilmente ha un po' di paura. Sessantatresimo, incursione di Marotta appena entrato, conclusione fuori. Sessantanovesimo, corner per le Vespe, Rubin salva il Foggia sul colpo di testa di Marotta. Settantanovesimo, bello l'1-2 tra Marotta e Paponi, Guarna però è attento sul tiro di quest'ultimo, Juve Stabia che Foggia tant'è che la formazione di Stroppa passa al 5-3-2 nel finale. Ottantunesimo, ci prova anche Cutolo, senza fortuna la gara di fatto finisce all'ottantasettesimo quando la Juve Stabia resta in 10. Doppio giallo per Morero che ferma con le cattive, un contropiede dei padroni di casa. Finisce così, Foggia 1, Juve Stabia 0. Finisce così, Foggia 1, Juve Stabia 0.